Quante ore dovrei dedicare alla gestione social del mio cliente? Ufficialmente ti risponderei tutto il giorno, tutti i giorni. È un lavoro che si basa sull'analisi continua delle performance, della concorrenza e del feedback da parte degli utenti. Tecnicamente è un lavoro infinito e continuo. Mediamente per fare un ottimo lavoro tra ricercare informazioni, creare contenuti, creare le grafiche, le foto e i video, dovresti dedicare almeno 4 ore al giorno per ogni cliente. E quando ne hai tanti? La buona notizia è che più lo fai e meno ci metti, acquisendo competenze, imparando a snellire molto il lavoro. Fallo per 90 giorni, dandoti obiettivi mensili e facendo di tutto per raggiungerli. Dopo 90 giorni, analizza le tue pubblicazioni che hanno avuto più successo e riproponile, modificando ovviamente il contenuto, per raggiungere nuovi obiettivi. Tieni presente che chi vede i tuoi post oggi potrebbe non averli visti prima. Quelli più belli, di successo, più avvincenti, non vengono visti tante volte da molte persone che potranno però apprezzarle nel prossimo ciclo trimestrale. La morale è analizza gli ultimi 90 giorni dei tuoi contenuti, scegli i migliori, rimodificali e riproponili. E questa è Social Media Strategy.